Stiamo lavorando in questo momento e stiamo cercando di fare la manovra più incisiva possibile. È chiaro che la manovra sul clima fiscale è importante perché dà subito una spinta all'economia abbassando i costi delle imprese, però noi dobbiamo agire anche sulle cause strutturali di perdita di competitività dell'economia italiana. Quindi in realtà dobbiamo accompagnare la manovra sul cuneo con altre misure di tipo strutturale che stiamo preparando, che in parte staranno nella legge di stabilità, in parte staranno nel decreto legge chiamiamolo del fare 2, vedremo come si chiamerà.